Infatti, qui è una cosa amicidiale, comunque è un lavoro che va fatto. Sì, registro anche. No, poi appunto, essendo che tengono gli animali e che ci vivono su questo, non possono fargli del male. Appunto, cioè ci andrebbe poco a capire, arrivare a capire fino lì. Qualcuno non capisce. Infatti, appunto, ogni tanto gli animalisti parlano, però se tu gli dicessi, vieni una settimana insieme a me, ti dice vado a far d'altro. Lo immagino, non è un lavoro, un mestiere facile. No, poi non c'è sole, non c'è pioggia, non c'è... Non avete sabati, non avete domeniche. Non c'è la festa natale, Pasqua, dici oggi, boh, chiudo bottega e... Purtroppo gli animali mangiano tutti i giorni. Infatti. Quindi questo va poi su Recreco, sai quando è che è su Giangheo? Non lo so, infatti dopo voglio chiedere. E quando lo montano è quando fanno vedere l'Ambaradà. Con il boccio magari per il uomo. Ok. Ma poi sono abbastanza tranquilla, non è che vedi che... guarda te con questo mi va per terra ma persa adesso non è andato più vabbè dai tu e fanno lo prendo io lì dopo se fanno una preghetta dammi il tuo, no, guarda quello questo lo dovrà fare faccio con la secca allora prendi tu con questo e questa lana viene poi vendita adesso non te la compra adesso noi visto che ne abbiamo poche cose dopo la portiamo poi su lì a Mialiano che hanno aperto quel coso e lui te la ritira una volta, sì, una volta è cosa adesso ti costa più il tosarlo mamma mia è cambiato tutto ormai siamo vestiti di plastica infatti e quello lo considerano positivo come no inquiniamo il mondo adesso è arrivato a fare questi tessuti nuovi che poi poi siamo tutti allergici non lo so sì siamo diventati tutti allergici c'è qualcosa che non funziona probabilmente però io ogni tanto dico io ormai ho passato i 50 anni sono già un pezzo d'antiquariato come me per quelli della stessa morza ma sai ogni tanto senti parlare questi grandi studiotti che dicono infatti vabbè mi sarò una studiata però tanto dico sono un pezzo d'antiquariato però certe cose non le capisco ma vai infatti anch'io vabbè stiamo un velo pietoso sì sì perché vabbè adesso chiudo il filmato perché tanto è stato un po' di